sono già in felpina oggi c'erano 40 gradi ci si scioglieva il sole ma la sera fa freschetto lo stesso e quindi appena cala il sol la sulla playa non c'entrava niente appena cala il sole io entro nel pile allora mi sono domandata un bel po di volte oggi lo faccio non lo faccio ne parlo non ne parlo io di norma non parlo mai di persone che sono nel mondo dell'occulto e dello spiritismo a meno che non siano personaggi famosi ormai deceduti o le mie colleghe di congrega perché ho il permesso loro di nominarle e di parlarne altrimenti non do mai idee e valutazioni ma mi stanno arrivando un sacco di richieste sulla mia opinione personale sul medium che sta facendo tanto parlare di sé in quest'ultimo periodo per aver rilasciato delle idee sue sul caso della ragazza saman uccisa in italia perché non voleva contrarre un matrimonio organizzato dalla sua famiglia e sul caso della piccola denise pipitone lui si è esposto io neanche lo sapevo perché come vi dico sempre io di in norma non seguo le persone che sostengono di essere medium o occultisti o quant'altro né famosi né sconosciuti a meno che non siano persone che collaborano con me o che comunque hanno a che fare con me come la mia congrega o altre amicizie che ho diciamo nei rami paranormali sia a livello proprio di persone condoni e sia a livello di ricercatori sia a livello di sperimentatori sia a livello di ghost hunters e via dicendo tutto ciò che ruota intorno al paranormale anche la parte normale del paranormale non è che frequento stregoni e sciamani ma non conoscendolo sono andata a spulciare un po le dichiarazioni perlomeno quelle che sono pervenute in italia in lingua italiana non ho fatto ricerche molto grosse anche perché oggi pomeriggio sono stata con un'amica oggi era domenica stamattina ho lavorato insomma non è che ho avuto chissà quanto tempo quindi ho dato un'occhiata a ciò che perlomeno è pervenuto in italia considerando che questo signore è un dichiarato un sensitivo medianico medium tedesco e quindi le sue dichiarazioni perlopiù le rilascia suppongo in germania ma dal poco che ho letto su di lui c'era anche la foto di questo signore che però non mi dice nulla nel senso che io non essendo sensitiva verso i vivi per me vedere una foto poco mi da anche se ha gli occhi nella foto molto molto sinceri ma sono andata a leggermi le casistiche ho visto che aveva aiutato tra l'altro in altre circostanze di sparizioni di altri personaggi sia in germania sia in italia sia in altre parti d'europa ho visto che lo fa sempre solo in maniera assolutamente gratuita e ho letto la sua tecnica personale con la quale cerca appunto i punti dove potrebbero essere i dispersi i corpi dispersi e devo dire che anche la sua tecnica mi è sembrata estremamente realistica e fattibile inoltre pare che dalle sue dal suo modo di spiegare ciò che lui fa nel senso vero della parola mi ha dato proprio la sensazione appunto che queste nozioni che lui riesce in qualche modo ad ottenere gli vengano date non dalla sua sensorialità personale di grande stregone come fanno invece vedere spesso i buffoni di turno telemediatici ma molto semplicemente lui ammette che essendo medium alla fine il suo metodo costituito dalla sua mano stessa che vaga sulle cartine sulle mappe ha una sua tecnica specifica io la riassumo ovviamente è trasportata da entità che lo aiutano nel suo compito ora siccome io ho una collega anche di congrega che è preposta proprio ai corpi dei dispersi ma che in quel senso non esercita non esercita perché come spiegavo anche nell'altro video dove appunto spiegavo perché molti medium veri non i farlocchi che cercano fama o che sono a pagamento qui in Italia non si cimentano molto con l'aiutare le forze dell'ordine in questi casi per la questione dell'ignoranza popolare che c'è in Italia per quanto riguarda lo scetticismo che c'è per quanto riguarda proprio il paranormale e la medianità onde evitare di nella migliore delle ipotesi essere presi per i fondelli come dei ciarlatani quando in realtà i ciarlatani sono quelli che si fanno pagare ma in Italia sembra che la gente sia convinta che più spende e più ha la qualità perché siete indottrinati dalle pubblicità mediatiche comunque vabbè se una cosa è gratis vuol dire che non vale niente secondo il popolo italiano se una cosa la pagate fior fior di soldi vuol dire che è buona che poi peraltro invece è sempre l'esatto contrario quello che costa caro è sempre più marcio ma ha più soldi per poter non pagare multe e potersi comprare eventuali ispettori ma quello è un altro paio di maniche contenti voi a spendere tanto contenti tutti io però nel mondo medianico lo sapete condanno chi chiede soldi a prescindere perché è un'offesa ai medium ed è un'offesa all'oltre tutto ai defunti e mi fanno letteralmente schifo a prescindere comunque tornando al signor Michael Snyder mi sembra davvero una bella persona e appunto in questi giorni si stava interessando al caso della ragazza Saman e ha pronunciato due frasi di ruolo di routine sul caso della piccola Denise dicevo prima che qui in Italia appunto quando vi va bene quando ci va bene veniamo presi per il culo come medium quando ci va male rischiamo anche di essere incriminati non si sa bene per quale motivo quindi i medium io sono una postina quindi non faccio parte della categoria della ricerca dei dispersi ma a me se non concesso che qualche disperso potrebbe anche venire a dirmi qualcosa non credo che mi intrometterei nelle indagini non credo poi non lo so perché non mi è ancora successo ma capisco chi pur essendo preposto a quel tipo di compito qui in Italia tenti di non portarlo a termine perché purtroppo rischia più che un vero criminale solo a dire ho la sensazione che invece questo signore se la rischia vivendo in Germania dove forse non so ci sarà una cultura diversa per quanto riguarda l'approcciarsi con persone medianiche lo spero per lui più che altro ma ripeto dall'aspetto e dal viso e dal suo modo di spiegare come procede e cosa fa mi sembra una persona reale una persona vera un vero medianico e non il classico cialtrone e lui ha dichiarato in questo trafiletto di queste due ragazze di queste ragazze perché ormai anche Denise oggi come oggi sarebbe una ragazza che Saman dovrebbe trovarsi in un campo vicino a a un luogo dove lavorano lo zio mi pare e il padre in un boschetto mentre invece su Denise ha detto che non non gli è pervenuto nulla anche perché anche quello è una questione poi ve la spiego dopo ma anche quella c'è di questione non gli è pervenuto nulla a livello di certezze sul fatto che sia viva o defunta ma ha detto che comunque a suo sentire ciò che gli arriva da chi lo aiuta nei suoi compiti quindi presumibilmente dalle sue guide o comunque dall'oltre stesso la piccola Denise in ogni caso almeno al momento sembrerebbe che non verrà comunque ritrovata ripeto io il parere lo do per lo più su di lui e mi sembra una persona valida una persona vera e un vero medianico poi magari posso sbagliare perché ripeto non sono sensitiva sui vivi e ringrazio l'oltre per questo perché io le problematiche dei vivi lo sapete non è che le sopporto tanto le trovo quasi sempre abbastanza inutili tranne qualche rara eccezione quindi felicissima di non essere sensitiva sui vivi di chiacchierare con i miei mortini che anche loro già scassano le pinze quando si impegnano ci mancano anche i vivi che le scassano il triplo ma in generale come persona e come medium e come si è approcciato nello spiegare le sue tecniche il suo modo da dove gli arrivano le informazioni e via dicendo mi è sembrato realmente una persona vera un medium vero che conosce ciò che fa e peraltro una persona che non infila da tutte le parti la religione quindi già già di per sé per me tanto di cappello uno che capisce che le religioni non servono alla mazza in questo mondo per me c'è già da togliermi il cilindro pareri miei personali sui casi su Saman è successo da poco e non saprei ancora non ho neanche indagato a livello di pensiero di richiesta alle mie guide quindi non saprei proprio cosa dire che la povera ragazza sia stata uccisa penso sia palese da tutta la situazione mediatica che hanno raccontato i giornali i telegiornali e via dicendo quindi poi se sia realmente nel boschetto vicino al lavoro dello zio e forse anche del padre come ha detto Michael Schneider spero semplicemente che le forze dell'ordine prendano in considerazione la sua dichiarazione e possano se non altro indagare in luoghi che possono somigliare a ciò che il signor Schneider ha dichiarato per quanto riguarda la piccola Denise che ormai piccola non lo sarà più sicuramente io posso dire che tanto tempo fa quando era da poco successo il fatto avevo provato a guardare con determinati rituali miei nell'oltre chi mi conosce lo sa che a volte posso guardare nell'oltre per vedere se ci fosse la sua anima il suo e non l'avevo trovata nell'oltre da lì ero partita dicendo parlando anche con le colleghe economici che sicuramente appunto secondo me o era ancora appunto viva tranquillamente o se era defunta era rimasta ancorata a qualche luogo a qualche posto qui nella terza dimensione per non vedersi nella quarta sull'affermazione che ha detto il signor schneider e quindi che comunque secondo lui non ci sia una possibilità purtroppo di ritrovarla assentore ma ripeto io parlo solo per idee come se fosse una comune mortale come tutti perché non sono sensitiva verso i vivi quindi se è viva io non ho sensazioni su di lei ma anche a naso così ragionando da essere umano normale senza mettere in mezzo doni eclettici o doni non eclettici anche secondo me le possibilità di ritrovarla a prescindere che sia viva o che sia mancata le trovo praticamente quasi nulle ad oggi il problema di fondo credo che appunto come dicono anche i media risalga all'epoca delle prime indagini che furono fatte in maniera veramente carlona troppo approssimative o come diceva quel procuratore che non mi ricordo come si chiamava potrebbero anche essere state inquinate di proposito questo non c'è dato sapere sono tutte ipotesi ma dovremmo dovuto essere lì in mezzo alle indagini in quel momento 17 anni fa 17 no 13 quant'erano per poterlo dichiarare per poterlo affermare nel corso di questi anni ogni tanto qualcuno nei vari gruppi eccetera o parlando con varie persone la domanda l'ha sempre ritirata fuori come un po' succede anche ancora per la Celentano come ancora succede per la per la figlia di Carrisi per tanti scomparsi questo a prescindere ma è anche normale che questi casi rimangano un po' nel cuore delle persone poi ci sono anche persone che a volte si credono si credono si sentono o forse anche lo sono ma sono talmente tante e talmente diverse anche le loro uscite che a volte valutare se possano essere vere o meno diventa difficile che dire a volte ci arrivano dei messaggi anonimi o privati dove ci dicono ma io sento che quella persona è là ma io sento che quella persona è lì e via dicendo ma io ho fatto un sogno ma io l'ho vista però poi sono tutti luoghi diversi e è difficile stabilire se queste persone possono aver avuto realmente una visione un contatto una sensorialità o meno una che mi aveva abbastanza colpito era una un'anonima che non mi ricordo nemmeno dove aveva scritto che lei aveva sognato o visto in visione Denise dentro a un lago di una chiusa quindi di una di una diga un lago di quelli artificiali di una diga sotto al lago ora non ricordo bene i particolari ne arrivano ne leggo talmente tanti di queste cose perché sono argomenti di cui si parla un po' in generale nei gruppi di paranormale via dicendo giusto proprio perché le persone cercano di aiutare queste famiglie eccetera quindi magari si affidano un po' uno un po' all'altro sperando magari nei discorsi fatti tutti insieme appunto nei gruppi che si cavi qualche ragno dal buco ma in generale io personalmente non io infatti quello che rispondo sempre rispondo sempre se quando mi scrivono a me o quando lo leggo in qualche post eccetera se hai il sentore di questa determinata situazione fallo presente alle forze dell'ordine non puoi venirlo a dire a me di modo che parta io io non ho visto quella cosa quindi io non posso dire ho visto questo ho visto quell'altro se senti che possa essere vai a parlarne con qualcuno delle forze dell'ordine anche nella tua stessa zona spiegando che il tuo è un sentore puoi trovare il poliziotto il carabiniere che non ti crede puoi trovare quello che magari una telefonata fa quello poi sta anche le forze dell'ordine sono esseri umani quindi c'è quello che crede un po' di più quello che crede un po' di me io ripeto personalmente per quanto mi riguarda non mi è mai successo ma penso che non mi intrometterei mai come ho già spiegato qui in Italia in questioni che riguardano le ricerche da parte di casi grossi e via dicendo a meno che proprio non mi apparisse davanti il fantasma in questione mi dice se guarda che devi dirgli che sono lì allora potrei anche pensare che per il bene del defunto che me lo chiede ci potrei trovare per fortuna non mi è mai successo e mi auguro che non succeda mai tornando al discorso iniziale sul sul sensitivo tedesco sul medium tedesco lui si definisce un trasmettitore e questa è la parte che mi è piaciuta di più perché in effetti noi medium cioè i medium quelli veri sono dei trasmettitori cioè loro trasmettono ciò che gli viene dato dai defunti che siano informazioni che siano messaggi che sia quant'altro non sono loro ad avere dei poteri che vedono analizzano e sentono le cose ma semplicemente hanno la capacità di sentire la voce di chi gli può dire qualcosa ed è tutto lì quindi alla fine sono soltanto dei trasmettitori dei postini dei portantini di messaggi che io peraltro mi ci vedo un po' come fantozzi con il capitello da portare a Roma ma quella è un altro paio di maniche in sostanza stasera l'ho fatto su questo perché da quando è uscito in qualche link eccetera l'ho condiviso anch'io sulle mie pagine perché mi piaceva quello che diceva ma da quando è uscito appunto questo signor Michael Snyder tutti quanti mi hanno chiesto appunto cosa ne pensassi cosa mi sembrasse e via dicendo a occhio mi sembra sincero quello che dice che spiega che fa mi sembra estremamente reale e realistico che poi senta il vero o che abbia qualche guida che lo piglia per i fondelli io questo non lo so dire ma ho letto che è stato di aiuto in parecchi casi e ha sempre avuto ragione quindi tendo a supporre che le sue guide o chi lo pilota in questo senso gli idea informazioni reali in merito alle cose sul caso Saman vedremo se qualcuno lo prenderà in considerazione si saprà sicuramente perché ha fatto abbastanza tan tan mediatico sul caso Denise io spero che non abbia ragione ma obiettivamente la penso come lui obiettivamente ripeto anche io non mi pronuncio sul fatto che sia viva o che sia mancata ma ho la netta sensazione che comunque non verrà trovata anche se è brutto dirlo però io devo essere sempre sincera in quello che dico in quello che penso staremo a vedere spero almeno nel caso di Denise invece di sbagliarmi e spero che si sbagli anche lui ma anche lui penso che speri di sbagliarsi perché comunque mi sembra una persona anche molto onesta dallo sguardo molto buona ecco non una persona approfittatrice poi ripeto magari me sbaglio pure io questo non lo posso sapere ma a pelle mi sembra una persona reale quindi spero di aver chiarito questo punto e queste domande così mo tutte le volte che mi fanno la stessa domanda gli piazzo il video come risposta perché dopo un po' starrei a scrivere sempre mi annoia vi saluto ricordandovi che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove io frequento scrivo bazzico canto faccio l'idiota faccio qualsiasi cosa che mi venga in mente ormai becco gente per strada ma tu non sei Sveva la youtuber ma veramente io sarei una medium scrittrice ho cominciato a fare la youtuber per altre questioni ma non sono una youtuber io sono una scrittrice medianica tra l'altro però va bene si infatti mi dico si si sono io e finisce lì un po' più sotto ci sono i soliti link delle mille mille librerie qua ce ne sono tre o quattro c'è amazon libri streetlib ips mondadori o feltrinelli le più conosciute qui in italia ma ci sono in tutto il mondo sia fisiche che online 5 libri ad oggi sia in versione cartacea che in versione ebook digitale ciao